Premessa Una delle poche cose, anzi forse la sola che io sapessi di certo, era questa, che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni volta qualcuno dei miei amici o conoscenti dimostrava ad aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle. Succhiudevo gli occhi e gli rispondevo, io mi chiamo Mattia Pascal. E grazie caro, questo lo so. E ti par poco. Non pareva molto per dir la verità neanche a me, ma ignoravo allora che cosa volesse dire il non saper neppure questo. Il non poter più rispondere, cioè come prima, all'occorrenza. Io mi chiamo Mattia Pascal. Qualcuno vorrà bene compiangermi, costa così poco, immaginando l'atroce cordoglio, tu disgraziato il quale avvenga di scoprire tutta un tratto che, sì, niente insomma, né padre e né madre, né come fu o come non fu. E vorrà ben indignarsi, costa anche meno, della corruzione dei costumi e dei vizi, e della tristezza dei tempi che di tanto male possono essere cagione a un povero innocente. Ebbene, si accomodi. Ma è mio dovere avvertirlo che non si tratta propriamente di questo. Potrei qui esporre di fatti, in un albero genealogico, l'origine e la discendenza della mia famiglia e dimostrare come qualmente non solo ho conosciuto mio padre e mia madre, ma e gli antenati miei e le loro azioni, in un lungo decorso di tempo, non tutte veramente lodevoli. «E allora? Ecco, il mio caso. Assai più strano e diverso, tanto diverso e strano che mi faccio a narrarlo. Fui per circa due anni, non so se più cacciatore di topi che guardiano di libri, nella biblioteca che un monsignor bocca mazza, nel 1803, volle lasciar morendo al nostro comune. È ben chiaro che questo monsignore dovette conoscere poco l'indole e abitudini dei suoi concittadini o forse spero che il suo lascito dovesse col tempo e con la comodità accendere nel loro animo l'amore per lo studio. Finora ne posso rendere testimonianza. Non si è acceso. E questo dico in lode dei miei concittadini. Del dono, anzi, il comune si dimostrò così poco grato al bocca mazza che non volle neppure erigergli un mezzo busto, pur che fosse. E i libri lasciò per molti e molti anni accatastati in un vasto e umido magazzino dove poi li trasse, pensate voi in quale stato, per affogarli nella chiesetta fuori mano di Santa Maria Liberale. Non so per quale ragione sconsacrata. Quali affidò, senza alcun discernimento, a titolo di beneficio e come si ne cura, a qualche sfaccendato ben protetto, il quale, per due lire al giorno, stando a guardarli, o anche senza guardarli affatto, ne avesse sopportato per alcune ore il tanfo della muffa e del vecchiume. Tal sorte toccò anche a me. E fin dal primo giorno io concepì così misera stima dei libri, siano essi a stampa o manoscritti, come alcuni antichissimi della nostra biblioteca, che ora non mi sarei mai e poi mai messo a scrivere se, come ho detto, non stimassi davvero strano il mio caso, e tale da poter servire da ammaestramento a qualche curioso lettore che per avventura, riducendosi finalmente a effetto l'antica speranza della buon'anima di Monsignor Boccamazza, capitasse in questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l'obbligo però che nessuno possa aprirlo, se non cinquant'anni dopo la mia terza, ultima e definitiva morte. Già che per il momento, e Dio sa quanto me ne duole, io sono morto. Sì, già due volte, ma la prima per errore e la seconda sentirete. Sì, già due volte,